Siamo già alla seconda giornata di ritorno e con tutta tranquillità dico che questo torneo entusiasma sempre di più, grazie ai dirigenti e calciatori che si impegnano con abnicazione e passione, aspettando il ripristino regolare in settembre. Detto questo andiamo subito in cronaca a Fischia, Patrizio Novelli di Vasto, mentre le immagini e montaggio sono di Pino di Felice. Inizio slow per entrambe le formazioni, all'improvviso l'impennata in positivo per i rossoneri. Andiamo al minuto 16. Palla buona per Barro, finalizzato con il vantaggio. Gran bel gol, non c'è che dire. Meritevole di un replay. Dunque, Angolana 0, Lanciano 1. La risposta dell'Angolana è scritta in queste tre azioni sterili. La prima, al 26esimo, tiro debole di Casati, parato senza difficoltà da Rossetti. 31esimo, Angolo battuto, corto da Di Renzo. Attenzione, c'è Mucciante alto. E per finire, al 38esimo, c'è un cross di Farias. Criscolo tenta la conclusione, palla in out. E con questo, che si chiude il primo tempo con il risultato, Angolana 0, Lanciano 1. Noi siamo partiti, abbiamo fatto due o tre partite magnifiche, dopodiché siamo tornati indietro. Questo non è giustificabile, affatto. E io non perdono nessuno, né l'allenatore né i giocatori. Una squadra apatica, Presidente. Niente, passeggiano, si stanno allenando. Non è questo il discorso. Si specchiassero a Lanciano, che hanno problemi seri e stanno dimostrando quanta passione e quanta affetto hanno per la società e per la città. Non ci devono prendere in giro questi. Il Presidente Spinelli riceve anche... Basta! Dovete giocare! Sarà stata la giusta critica del Presidente Spinelli, mirato alla propria squadra, per mancanza di impegno. Ma sta di fatto che l'Angolana rientra in campo per la disputa del secondo tempo in maniera totalmente diversa. Infatti, arriva il vantaggio, griffato da Di Renzo. È il pareggio, nero-azzurro. Uno a uno. L'Angolana prende forma. Quindicesimo minuto, passaggio di Criscolo. Miani è pronto. Buona la risposta, come al solito, di Rossetti. È tutta un'altra partita. Ventitreesimo, occasione per Casati. Si coordina. Alto di un niente. Trentesimo, c'è un calcio di punizione. Lo batte Lombardi. Perfetto! Da par suo è l'ottimo puddu. Il total pressing dell'Angolana viene certificato da questo gol, voluto e ottenuto a tutti i costi. Al minuto 23. Criscolo! Eh sì! È il 2 a 1. Rivediamolo. Quarantaseiesimo, Ruggeri. Buono per lui. Rossetti c'è. Tiro ribattuto. Quarantaseiesimo, Rosso per Longo. Nell'Extra Time, Pantoni. Occasione per lui. Bravo, ancora una volta, Rossetti. Al quarantottesimo. Ed era, così, l'ultima opportunità positiva per l'Angolana. Che agguanta una meritata vittoria per quanto fatto nella ripresa. Tra i migliori della squadra lancenese, il portiere Rossetti e Scutti. Abbiamo fatto un approccio sbagliato, come ci capita abbastanza spesso ultimamente. Poi però abbiamo fatto abbastanza bene. Non è stata la miglior prestazione, però questo Lanciano non è quello di inizio campionato. Quindi sapevamo che aveva recuperato quasi tutti gli effettivi. domenica aveva fatto il primo punto, quindi martedì, mercoledì. Quindi sapevamo che della difficoltà è andata bene, dai. Si è rivisto, direi, l'Angolana che lei vuole. Velocità, circolazione del pallone. Poi il duetto meraviglioso tra Farias e Di Renzo, che ha portato anche il gol di Di Renzo, vero? Sì, guarda, io ti devo dire la verità. Me lo dica. Secondo me non giochiamo bene, a tratti. Però prendiamo troppi gol. Sono arrabbiato perché... Oggi ne ha preso uno solo. È troppo. È troppo, è troppo. E allora cosa vogliamo fare? Le prime tre ne abbiamo prese otto e quindi tre gol a Capistrelli in dodici minuti. Quelle sono cose che una squadra che vuole fare qualcosina in più non si può permettere. E Eugenio, trainer, avaro, sempre di cose belle. No, realista, realista. Alberto Ogliezzi oggi nelle vesti di secondo trainer perché Di Pasquale è squalificato e non vogliamo sapere neanche il motivo. Insomma, il primo tempo veramente un gran bel lanciano sotto ogni profilo. Sì, è stato sicuramente un ottimo approccio alla partita da parte nostra. I ragazzi hanno approcciato bene, hanno fatto un ottimo primo tempo. Anche il secondo non è stato male. È chiaro ci siamo abbassati. Purtroppo la condizione fisica è quella che abbiamo fatto la nona partita in 28 giorni. Quindi comunque complimenti ai ragazzi perché l'hanno approcciata bene. Purtroppo due errori ci hanno penalizzato e ci sono costati tre punti. Il tutto è nutrito da questa mancanza che il lanciano non regge i 90 minuti. Gli Ezi, diciamolo francamente. Assolutamente. Questo è un problema che ci portiamo dietro da tanto tempo. Ripeto, nove partite in 29 giorni sono tante. Una ogni tre giorni per un mese. E quindi è chiaro che non reggiamo i 90 minuti. Gli ultimi minuti caliamo spesso. Siamo sempre calati nelle ultime partite. Ma i ragazzi hanno tenuto sempre duro. Non abbiamo mai mollato il colpo. Oggi potevamo portare anche qualche punto a casa. Abbiamo avuto anche qualche occasione per raddoppiare. Purtroppo non è stato così. Ho visto anche bene il reparto difensivo con Rossetti, il portiere in gran forma e Scutti. Vero? Assolutamente. Anche i singoli, anche chi ha giocato magari un pochettino di meno, che adesso va dentro un po' di più, ha giocato veramente bene. Ma abbiamo fatto una partita, un'ottima partita tutti. Peccato. Grazie.